ancora oggi gesù cerca collaboratori per portare la gente nel regno di dio come allora aveva bisogno dei discepoli oggi ha bisogno di noi cristiani anche di te la messia abbondante ancora oggi e siamo chiamati a lavorare con fervore ed entusiasmo per la salvezza delle anime essere collaboratori anche un altro risvolto essere corresponsabili corresponsabilità significa capacità e disponibilità a collaborare rispondendo da adulti di quel che la chiesa ma soprattutto il signore ci chiede implica il saper guardare ogni cosa con un orizzonte più vasto della nostra piccola visione personale implica la coscienza della grandezza di ciò che ci ha fidato da compiere che non sarà eseguito tanto meglio quanto più meccanica sarà l'esecuzione ma quanto più le nostre capacità e i doni dello spirito saranno condivisi in pienezza dobbiamo dunque superare il cristianesimo dei bisogni per approdare ad un cristianesimo delle responsabilità perché non si può essere cristiani solo per se stessi e questo il cristianesimo della vocazione della responsabilità quello di una fede adulta e matura capace di farsi carico della testimonianza che il vangelo porta con sé la parola che oggi ci regala proprio il vangelo e corresponsabilità grazie a tutti